Allora, amore o non amore? Ci sono dei segnali ovviamente che ti dicono che questa persona è innamorata o meno, ci sono dei segnali che ti faranno capire che l'uomo che stai frequentando, l'uomo che stai conoscendo, ovviamente potrebbe essere innamorato, quindi potrebbe esserci un interesse, un interesse perché no anche genuino per alcuni tratti e quindi capire insomma se questa persona è innamorata o meno. Ora, gli uomini di base quando si innamorano ovviamente vanno a far matchare le parole con quello che fanno, però andiamo per gradi, prima di continuare ti ricordo sempre di iscriverti al canale, seguimi su tutti i social network, io sto ovunque, mi trovi dappertutto su tutti i social quindi non è un problema, e ovviamente ricordati quindi andare in descrizione per informazioni e consulenze con me personalmente, ok? Quindi con me personalmente. Ora, partiamo dalla parte del rispetto, adesso prima di tutto vorrei che tu capissi e comprendessi un attimo che cos'è e cosa significa il rispetto per te da parte di un uomo, quindi questa persona, il tuo partner o comunque la persona che vuoi e sia innamorata di te o che pensi sia innamorata, ti sta dimostrando rispetto, quindi sta per esempio rispettando il tuo tempo, quindi ti sta aspettando, non ti sta mettendo prescia, come si dice giù, no? Non ti sta mettendo pressa, cioè non ti sta pressando per il tempo, per stare insieme, non ti sta pressando per fare delle cose per lui, ma è disposto ad aspettare, è disposto ad attendere, no? Ce la fa o non ce la fa, questa è un po' l'idea. E ti fa sentire importante o meno per lui, cioè nel senso ti trasmette quella importance vibe, cioè quella vibrazione di importanza. Ecco, quello secondo me è un tratto importantissimo, cioè che ci sia quella vibrazione di importanza, quella sensazione di importanza. Quando stai con qualcuno senti proprio che c'è quel sentore di, ah cavolo, sento che comunque per questa persona valgo, sento che c'è qualcosa di più, sento che sta facendo cose per farmi sentire importante, sento che si sta impegnando, ecco, se c'è quella sensazione, quel sentore di impegno, no? Ecco che là ci iniziamo magari a spostare verso qualcosa di interessante, potrebbe essere un segno che chiaramente si è innamorato di te, e quindi un buon segno, una cosa interessante. Un altro segno importante è se ti mette o meno al primo posto. Ora, se tu vieni sempre dopo l'amico, dopo la famiglia, dopo la madre, dopo la macchina, dopo il lavoro, ci può stare in alcuni casi, perché comunque ha dei valori principali, no? Magari il valore principale è il lavoro, la famiglia, però poi, teoricamente, dovresti anche tu rappresentare la famiglia per lui. Quindi rappresentare la famiglia per lui significa rappresentare, ovviamente, che cosa? Rappresentare la, come dire, il futuro, ok? Quindi rappresentare un'immagine futura, rappresentare una proiezione, un prospetto futuristico. Cioè, questo prospetto, ovviamente, se non ce l'ha con te, non ti ama, ok? Quindi deve avercelo anche con te. Quindi ti deve mettere al primo posto, ti deve posizionare come la partner e, ovviamente, la persona alla quale, tra virgolette, dare più di tutti gli altri. Quindi, diciamo, dovresti ricoprire una buona fetta della sua vita. Fetta, ovviamente, che non deve essere contesa con il cerchio sociale o con gli altri. Se parliamo del lavoro e quindi del business è un conto, ma se parliamo di contenderti, per esempio, con amici, familiari e parenti, no, questo non è per niente un buon segno. Un altro segno importante che potrebbe essere innamorato per te e di te è che ti, appunto, rende sempre una priorità a livello di tempo. Quindi trova sempre, praticamente, quel tempo, quella possibilità su un lasso temporale di darti di più di quello, no, che magari vorresti. O comunque senti che ti riserva più tempo di quello che magari dovrebbe. Se hai questa sensazione, non è per niente un cattivo segno, è un buon segno. È un ottimo segno. Il segno che ci sia, no, una maggiore riserva di tempo nei tuoi confronti. Questa è, chiaramente, una tip in più, quindi è una soluzione in più che ti va a dire, a tradurre, chiaramente, tutto quello che c'è con lui in potenziale amore. Poi, per quanto riguarda la parte comportamentale, relazionale, un ulteriore segno sarà che lui si spingerà, ovviamente, a sistemare quelli che sono gli screzi o comunque quelli che sono le frizioni all'interno della parte sentimentale. Quindi, magari, cerca di correggere, no, e correggersi addirittura a livello sentimentale. Quando, per esempio, c'è uno screzzo, c'è un problema, c'è un litigio, come reagisce? Già qua si vede tutto. Si vede, per esempio, se cerca di sistemare o cerca di accusare. Quindi, se lui fa un biasimo interno, quindi si accusa e quindi dice «Ah, questo potrebbe essere colpa mia, allora è dovuto a me, posso migliorare, posso sistemare questa situazione» e allora lì c'è una differenza abissale perché vuol dire che lui vuole impegnarsi ed è un segno in più, è un segno interessante, è un segno positivo. Vuole impegnarsi per fare che cosa? Vuole impegnarsi per dimostrarti, no, che c'è ovviamente amore, che c'è interesse, che c'è la possibilità di fare di più e che chiaramente vuole fare di più, vuole interessarsi a te, vuole spingere per te. Questa è una cosa importantissima. Ancora andando avanti, ovviamente, ci sarà la dimostrazione di un lato vulnerabile, cioè nel senso, un uomo innamorato è inevitabile che poi tende a dimostrarti scusate, il suo lato vulnerabile, quindi potrebbe rivelarti delle cose che vanno un po' oltre quello che tu ti aspetti, potrebbe rivelarti dei segreti o comunque potrebbe rivelarti, farti vedere una facciata debole dove lui è sentimentale, è più, appunto, weak, no, quindi è più, per assurdo, strano, un po' più strano, un po' più debole, un po' più vittima in quel caso di quelli che potrebbero essere le tue decisioni, perché magari ti fa vedere un lato che tu potresti colpire senza problemi, magari ti racconta il suo passato, di una sua debolezza del passato, ti racconta di una sua esperienza del passato che lo ha segnato e che questo potrebbe poi darti la mano dominante, perché magari sapresti dove andarlo a colpire, quali sarebbero i suoi punti deboli, quali sarebbero i suoi lati deboli, ecco, queste sono delle cose importantissime da tenere in considerazione. E ancora, per concludere, ovviamente avremo delle proiezioni future costanti. Le proiezioni future non sono nient'altro che un contesto dove lui fa e allude allo stare insieme da oggi, quindi al giorno in cui lo dice, a sei mesi, un anno e mezzo, due anni, anche quattro, cinque anni. Queste proiezioni future ovviamente non devono essere fatte con ah sì, poi ci andiamo a vedere il concerto di X. No, non è questo, ma saranno delle proiezioni che vanno, per esempio, sì, ci andiamo a vedere il concerto, ah sì, sarebbe bello andare in vacanza fra un anno lì, ah sì, la prossima estate andremo là, cioè dall'estate per esempio in cui stai o dall'inverno in cui ti trovi e lo fa alla prossima è chiaramente un segnale ovviamente di proiezione futura o addirittura potrebbe esserci un segnale di proiezione futura che si spinge a farti, tra virgolette, capire che potrebbe voler vivere con te, potrebbe voler creare qualcosa con te, quindi creare per esempio una casa insieme, fare qualcosa insieme, creare o prendere una casa in affitto, questi sono esempi, in futuro si può tradurre appunto in un segnale positivo, in un segnale interessante che poi per l'appunto appunto rileva e rivela che è innamorato e interessato a te. Quindi utilizza questi segni ovviamente per comprendere bene se piace davvero oppure no. Mi raccomando seguiti qua, seguimi qua su tutti gli altri social, seguiti qua, ma come cazzo non è uscito? Seguimi qua su tutti gli altri social network oppure su Instagram, iscriviti al canale ovviamente, in descrizione ho un link in bio su Instagram, trovi tutte le informazioni per consulenze, i miei servizi, i miei libri su Amazon, i miei libri privati, trovi tutto quanto, noi ci sentiamo al prossimo.